Cresce l'attesa per la seconda edizione della Coppa Villelucchesi, pronta a confermare l'appeal riscontrato anche lo scorso anno, assecondato dall'Eneo titolarità assegnate da C-Sport, l'evento promosso ad Automobile Club Lucchia, in programma il 12 e 13 luglio lungo le strade che circondano la città, offrirà alla platea motoristica nazionale un'espressione agonistica in linea con le ambizioni del proprio gruppo di lavoro. Trofeo rally di zona per quanto riguarda rally storico e campionato italiano, regolarità media come scenario per i conduttori iscritti al format previsto dalla disciplina, elementi di primo piano che con la conferma della formula dedicata alle vetture All Stars verranno valorizzati al meglio dei luoghi scelti per disputare la Coppa, le bellissime colline lucchesi, le ville che costellano il paesaggio e i borghi medievali che svelano un passato ricco di storia. Tre prove speciali e tre prove di media, ripetute fino a si orare 70 km cronometrati, quattro riordinamenti che esalteranno le eccellenze del territorio, piazza Darmi a Monte Carlo, Villa Reale a Marlia, Parco Pandora a Segromigno e piazza Ricasoli ad Alto Pascio, un percorso che attraverserà le colline e borghi lucchesi, da Quilea a Villa Basilica che vedrà il suo punto di partenza dal cuore di Alto Pascio, casa per eccellenza della via Francigena. La seconda Coppa V di Lucchesi accenderà i motori delle vetture ai partecipanti, esemplari che hanno fatto la storia dell'automobilismo internazionale, alle 19.31 di venerdì 12 luglio dal centro storico di Alto Pascio in piazza Ricasoli. L'arrivo è previsto alle ore 18.31 dell'indomani nel cuore di Monte Carlo, a conclusione di un confronto che decreterà i vincitori dopo sette prove speciali. L'apertura dell'iscrizione è stata programmata per mercoledì 12 giugno.